Oh, giovani amici di Facebook, visto che nel mio precedente video dedicato al mio zaino da viaggio barra da fiera è piaciuto particolarmente la parte in cui parlavo degli accessori dedicati proprio al viaggio, in particolare a quell'adattatore per le prese americane, ho deciso di fare un altro video in cui vi parlo di altre robe simili, chiaramente in questo caso ci sarebbero letteralmente dozzine di accessori magari molto utili in viaggio, ne ho selezionati qualcuno e magari aggiungetemi voi, se avete altre idee nei commenti qui sotto, ditemi voi cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video, visto che sarà fondamentalmente una piccola sottoserie di incaut unboxing dedicato proprio agli accessori da viaggio. Allora partiamo con questa roba stranissima che si chiama Gridit di Cocoon, non capirete cos'è finché non ve ne faccio vedere l'utilizzo. In pratica questo Gridit ha questi diversi elastici che possono essere utilizzati per bloccare al suo interno diversi accessori e quindi organizzare poi tutto quanto direttamente dentro al proprio zaino o alla propria valigia. Vi faccio vedere cosa si può fare ad esempio. Tac, ecco ad esempio in questa combinazione ho inserito un po' le cose che mi porto in viaggio di solito e come vedete ci ho fatto stare una valanga di roba, ci ho fatto stare un joypad bluetooth, ci ho fatto stare un battery bank, un modem 4G, una schedina SD, addirittura un monopod, dei cavi, una luce USB, un lucchetto eccetera. Come potrete capire praticamente questi diversi elastici si possono utilizzare per bloccare al suo interno tantissime cose diverse che appunto volete portarvi belle organizzate e mettere poi questo Cocoon direttamente dentro al vostro zaino. Cosa molto figa, oltre a questo è che per esempio sul retro c'è una bella zip che può contenere ancora altre cose, fighissima, e ha questa fettuccia che gli permette di essere appeso per esempio quando arrivate in camera, in albergo o dove state andando potreste per esempio appendere questa roba oppure appenderla all'interno della valigia. Quindi si chiama Gridit di Cocoon, costa relativamente poco e può veramente svoltare l'organizzazione del vostro zaino o valigia. Andiamo avanti. Un'altra roba super comoda in viaggio è chiaramente il classico beauty o comunque diciamo borsetta per tenere spazzolino, dentifricio eccetera. Tutto quanto vi ricordo ovviamente sotto i fatidici 100ml, altrimenti poi in aeroporto avrete dei problemi e vi sequestreranno il vostro shampoo da 100€ perché era sopra ai millilitri consentiti. Ci sono tantissimi di questi beauty online in vendita, la maggior parte è roba di bassissima qualità. Io ne ho scelto uno che è di qualità medio alta, di OU, perché? Perché costa veramente poco più degli altri però ha materiali di molto superiori. La cosa che accomuna quasi tutti questi accessori è questa figata qua, il gancio. A cosa serve il gancio? Fondamentalmente quando arriverete in albergo o dove alloggerete potrete togliere dalla valigia questa borsetta e appenderla in bagno. Sembra una sciacchietta ma è veramente super comodo. Poi dopo al suo interno chiaramente ci sono diverse cerniere, scompartimenti che possono appunto ospitare il dentifricio, lo spazzolino, lo shampoo o tutto quello che vi volete bar dovete portare in viaggio. Chiaramente può ospitare anche roba elettronica di ogni. È quasi impermeabile se non proprio impermeabile. Comunque è tutto quanto in materiale pseudo plastico per cui è quasi impermeabile direi. C'è una retina qui sotto altrettanto comoda. Si richiude in dimensioni umane non gigantesche come vedete. È anche esteticamente secondo me abbastanza gradevole. È della OU e lo trovate anche questo nei link qui sotto. Vi avevo già detto questa roba nell'altro video ma ve la ripeto anche in questo che appunto è dedicato a questo tipo di accessori. Spesso nei video online si consiglia di acquistare per andare all'estero un adattatore universale di prese come per esempio questo della Scross che è forse uno dei migliori in vendita online. È veramente super figo. Quindi sotto escono le prese delle diverse nazionalità che si bloccano e poi si sblocca con questo tasto nero. Ci sono tutte le principali. Quindi c'è quella europea italiana come vedete ha due poli. C'è questa qui che è quella inglese e c'è questa qui che è quella australiana se non ricordo male e poi c'è quella americana che è utilizzabile anche in Giappone. Il punto qual è? Il punto è che questi aggeggi sono troppo costosi, sono molto costosi, sono troppo grandi e ingombranti e soprattutto hanno la sfiga più grossa che spesso quando poi arrivate in albergo le prese non sono sempre a filo di muro. Per cui come vedete questa presa qui americana farà molta fatica ad entrare dentro alle prese che vi ritroverete poi negli Stati Uniti e rischiate veramente di portarvi un adattatore gigante che avete pagato tanto e che poi neanche entra nelle prese a muro. Ripeto, se proprio lo volete a tutti i costi questo Scross è ottimo perché è fatto bene e offre oltretutto due porti USB, cioè in pratica è anche un caricatore USB e può risparmiarvi almeno di portarvi anche il caricatore per i vostri device. Però io vi sconsiglio questo tipo di accessori e al loro posto vi straconsiglio di comprarvi semplicemente un adattatore destinato alla nazione in cui siete diretti, cioè appunto che abbia unicamente l'uso di adattare le nostre prese europee alle prese in questo caso americana. Questo è un adattatore che viene venduto in pacchetti da 3, costa veramente pochissimo ed è super piccolo e ha il vantaggio di entrare in qualunque presa a muro perché appunto vedete quanto è piccolo e di adattarsi benissimo per esempio ai vostri caricatori che vi sareste comunque dovuti portare in viaggio. Io qui ve ne mostro uno che è molto comodo perché ha quattro prese USB pur non essendo gigantesco e come vedete posso semplicemente collegare questo che magari utilizzo anche in Italia, anzi senz'altro utilizzo anche a casa eccetera, a questo adattatore americano ed ecco qua che diventa semplicemente un caricatore USB 4 porte di cui due a caricamento veloce che funzionerà benissimo anche in viaggio ed è praticamente l'unica cosa che vi potete portare per caricare poi il vostro tablet, smartphone e tutte quante le altre robe che riuscite a caricare via USB. Assolutamente meglio questa soluzione che poi si adatta no? Per cui magari di questi ne avete tre e ve ne portate tutti e tre che tanto occupano pochissimo spazio e li collegate semplicemente ad ogni adattatore. In altri video mi hanno commentato una roba tipo ah no è meglio portarsi la ciabatta. La ciabatta è un'altra soluzione molto consigliata che però non è proprio ottimale perché la ciabatta è grande, è enorme, non serve a nulla avere una ciabatta con cinque prese europee e a cui magari collegate altre tanti trasformatori, quando invece vi potete portare tre di questi qui piccolissimi e semplicemente collegarli ai diversi trasformatori che avete, tanto ne avrete uno, due, massimo tre. Un'altra roba sempre comoda, questa è veramente una sciocchezza ma l'ho inserita al volo perché costa pochissimo ed è fighissimo è il mitico Wallet Ninja o Ninja Wallet, questo sta veramente dentro portafoglio, non ha lame particolari per cui in aeroporto non vi romperanno le balle per questa roba e anche il motivo per cui non consiglio ovviamente di portarvi un coltellino svizzero, sì sarebbe figo averlo però magari rischiate poi in aeroporto di farvelo sequestrare finisce dentro il bidone e ve lo siete portati per niente. Questo non ha lame però offre tante piccole utilità che magari in viaggio possono risultare davvero utili, un cavatappi, un apri lattine, un metro sia in pollici che in centimetri, un apribusta, cinque diverse chiavi inglesi supportate, insomma tante cose diverse e può stare, magari infilato dentro sempre al cocoon per esempio, eccolo qua, l'ho messo dentro al cocoon al volo così vedete anche come funziona, quindi anche il Wallet Ninja se state comprando altro buttatelo dentro al carrello perché costa veramente poco e può essere secondo me molto utile. ultima cosa davvero super particolare questa per i vostri viaggi avventura, l'ho scelta perché mi piaceva l'oggetto ed è davvero una roba assurda che però devo ammettere che in certe situazioni in viaggio può essere davvero utile soprattutto se appunto fate dei viaggi un po' avventurosi o diciamo in zone che necessitano l'uso. cos'è? è una borsa impermeabile da 2 litri, come funziona? praticamente si apre, adesso ve la apro, ve la faccio vedere, da chiusa è davvero molto piccola come vedete, piccolissima, ha questo gancio per cui può essere appesa anche magari all'esterno dello zaino se non volete occupare spazio, comunque può essere appesa e porta via pochissimo spazio, è sempre della stessa marca di prima la OU, si apre in questa maniera si tira fuori qui da questo, da qua, da questo, da qua, si srotola, questa è la dimensione a me, ci sono diverse dimensioni, c'è piccola, media, grande, eccetera, c'è in nero o in arancio ho preso l'arancio, sapete che a me piace quindi l'ho preso per questo motivo, c'è anche nera che è un po' più diciamo meno appariscente, si apre qui nella parte superiore, c'è qua, potete mettere al suo interno qualunque roba, magari cellulare, ci sta anche un tablet, ci stanno diversi oggetti, a quel punto la richiudete almeno due o tre volte, in questa maniera qua, cioè si ripiega su se stessa almeno le volte che serve per renderla intermeabile e farci stare dentro le cose che volete fare stare dentro, la richiudete in questa maniera qua e a questo punto avete con voi una borsa completamente impermeabile, ancora diciamo che può essere appesa oppure può essere portata in giro in questa maniera e appunto avete la possibilità di portare con voi una borsa completamente impermeabile per guardare un fiume o per fare quello che dovete fare in viaggio, è una sciocchezza, costa veramente poco, però mi piaceva farvi vedere anche qualcosa di un po' diverso dal solito e si richiude in questa maniera molto semplicemente, si rimette dentro qua, si rimette dentro qua ed eccola qua, pronta per essere rimessa via se vi sono piaciuti i miei piccoli consigli di accessori da viaggio, se ne volete vedere altri fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete dei suggerimenti fate like, fate share, condividete il video e cliccate nei link sotto se volete acquistare qualcosa di quello che vi ho mostrato, ci vediamo al prossimo in cauto unboxing, ciao ragazzi